22esima edizione della Festa del Borgo in Via Cavour, come ogni anno i commercianti si uniscono per far rivivere questa parte del centro che è chiamata e conosciuta come piattelletto grazie ai ritrovamenti delle ceramiche antiche. Ogni anno cerchiamo di farla rivivere con piatti della tradizione, buon musica italiana, animazione per bambini, ogni commerciante spererà la propria merce, ci saranno degli artisti locali che spereranno proprio i propri quadri all'interno di un palazzo che è il Palazzo Speranza, poi ci saranno i piatti della tradizione come le cristaliate con i fagioli, le tagliatelle a ragù, la trip, i fagioli salsicce cotiche, piada sfogliata a mano con le varie farciture, ci saranno un sacco di sorprese con tenori oltre ai gruppi musicali, alle band di gruppi musicali. Veniteci a trovare e vi aspettiamo e come ogni anno cerchiamo di animare, dare il massimo per farvi vivere una serata spensierata con le vostre famiglie.